quindi diciamo non c'è batteria però vabbè stanno lo stesso questo è proprio non incluso nell'appartamento insomma questo è l'ingresso anche se non si vede qua c'è un vetro perché la porcia del bagno è fatta col vetro questo è pool che ci ha aiuto da trovare l'apprezzamento quindi sala da pranzo più mal di testa frigorifero dopo faccio vedere la cucina qua si entra in salotto c'è ancora pool che parte il divano letto colpo forte in teoria sta accadendo potrebbe anche essere la vista volendo quindi scrivania mobile 33esimo piano quindi c'è anche un bel po di vertigine perché non quello è il mare è di fronte c'è un'isoletta questo qua è il laghetto che si vede e alle spalle c'è l'albergo del Sovitell